Noi abbiamo sempre questo bel rapporto, cioè se comunque una band dura 9 anni, 10 anni è perché effettivamente riesce a passare del tempo assieme, riesce a stare bene, è tutto lì alla fine E anche perché poi quando vai in giro sono più i tempi in cui non fai un cazzo rispetto a quelli dove fai effettivamente qualcosa Detto questo, in fase di scrittura, di composizione, di decisioni per la band Ognuno ha parola, ognuno deve dare il suo, ognuno si deve mettere via dei no, eccetera eccetera Cioè comunque è tutta una questione come in tutte le relazioni Rock TV, in onda su Sky, canale 718 e in free streaming su tutti i device su livestream.com slash rocktv slash live